Gesù ti vuole perdonare, anche se pecchi tutti i giorni, Gesù ti ama lo stesso, vuole perdonare i tuoi peccati. Lui ama i peccatori, ma odia il peccato. Gesù è morto per i peccatori, anche per voi. Osana! Alleluia, ungis fratello Stefano, siamo qui Padre per la tua gloria in questo mercato. Siamo ancora qui in questo mercato, fratelli, di cavorre. Dammi questo, fratelli, dammi questo a tua moglie. Tieni sorella. Osana! Amen, alleluia, gloria a Gesù Cristo! Credetemi, Signore Gesù, carissimi del Piemonte, non perdiate le vostre anime! Alleluia, lontano da Gesù, che è la vostra, che è l'unica speranza. Osana, gloria al Cordero, gloria al Signor. Qual è la vostra speranza, la politica? Mi hanno ragione, sono venuti anche i fratelli, fratelli. È arrivato il fratello Stefano con la moglie. Gloria a Dio. Osana! Per la speranza è Gesù Cristo. Amen! Alleluia! Alleluia! Per la speranza è Gesù! Il figlio di Dio, pentitevi, uomini del Piemonte! Amen! Abbandonate gli idoli! Basta con la menzogna! Osana, gloria a Dio! Basta con il peccato! Basta con l'amore per il denaro! Amen! Basta con l'adulterio! Amen! Basta con le bestemmie! Basta con il pregare gli idoli, le statue! Amen! Basta con le menzogne del diavolo! Solo Gesù Cristo vi può salvare! Amen! Alleluia! È la verità! Sono il Signore! È la verità! Osana! Gloria al Cordero! Non mormorare più! Gloria al Cordero! Gloria al Cordero! Basta con le mormorazioni! Amen! Ditevi, siate umili! Alleluia! Oh, alleluia! Gloria! Unci! Unci con potenze, mio fratello Stefano, padre! Nel nome di Gesù! Basta con la vanità, la sensualità! Amen! Non essere sensuale! Revediti! Amen! Alleluia! Chi è di Piemonte a Cristo! Abbandona l'adulterio! Amen! Alleluia! Gloria all'agnello di Dio! Abbandonate l'inganno! Gloria al Cordero! Alleluia! L'arroganza! Pentitevi! Il Regno dei Cieli è per quelli che diventano come piccoli fanciulli! Amen! Alleluia! Gesù disse in verità, vi dico, se non vi convertite, se non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete a farlo! Alleluia! Per entrare nel Regno dei Cieli bisogna convertirsi! Amen! Amen! Bisogna pentirsi! Alleluia! Bisogna diventare come piccoli fanciulli, puri di cuore, puri nell'animo! Ma come puoi entrare nel Regno dei Cieli se sei orgoglioso, sei superba, sei arrogante, sei disubbidiente alla volontà di Dio? Come puoi entrare nel Regno dei Cieli? Alleluia! Vai a messa la domenica e bestemmi! Vai a messa la domenica e cometti adulterio! Sei un cattolico ma sei un bugiardo, sei un falso! O sei un valdese e cometti adulterio! Non basta dire io sono di questa religione o di quest'altra religione! Bisogna nascere di nuovo! Amen! Alleluia! Bisogna pentirsi! Glorie al Signore! Glorie al Signore! Rabatikitikisho! Ciel che l'iniquità vi allontana da Dio, cari del Piemonte! L'adulterio vi fa cadere nel fosso! Potenza nel sangue di Gesù! Alleluia! Il vizio vi fa cadere nel fosso! Alleluia! La bestemmia vi fa cadere nel fosso! A che serve che dici che sei cristiano e bestemmi? Sei cristiano e guardi la pornografia! Dio a Bipetano! Sei cristiano dici di essere cristiano e poi ti ubriachi! Fumi! Danneggi il tuo corpo con i vizi! Quello è peccato! Guardi la donna degli altri è peccato! Menti è peccato! Rubi è peccato! Queste parolacce sono peccato! Sei una peccatrice! Tentiti! Amen! Non che vai all'inferno! Amen! È la verità! Che ti piace o non ti piace! Vedete come sono le persone oggi? Vestemmi! Osana! E poi vogliono fermare noi che predichiamo! Nessuno ci fermerà! Nessuno fermerà il Vangelo! Vai a coloro che vogliono fermarci! Gloria a Dio! Anzi io vi dico fermatevi di pecare! Amen! Fermatevi di bestemmiare! Amen! Fermatevi di fare il peccato! Osana! Non venite a fermare noi che predichiamo la verità! Fermatevi della vostra vita malvagia! E accogliete il Cristo che vi vuole perdonare! Amen! Che morì alla croce per salvare i peccatori! Tutti quanti eravamo peccatori perduti! Non rifiutate la grazia di Dio! Cari del Piemonte! Alleluia! Non rifiutate la salvezza! Gloria! Perché se no verrà l'ira di Dio sulle vostre teste! Verrà l'ira di Dio su di voi! Verrà l'ira di Dio su di te! Non rifiutare la grazia e la salvezza! Gesù ti chiama al pentimento! Amen! Colettori del cuore di pietra! Gloria Cordero! Il cuore corrotto! Il cuore malvagio! Il cuore pieno di odio! L'uomo ha un cuore pieno di odio! Senza Dio l'uomo è perduto! Anche se hanno una bella apparenza! Sono governatori, sindaci! Sono politici! Ma il loro cuore è pieno di peccato! Anche i sindaci, i politici, i presidenti! Hanno un cuore pieno di adulterio! Tradicono la moglie! Cosa vuoi governare? Se tradisci tua moglie! Osana! Cosa vuoi governare? Se tradisci tua moglie! Osana! Ti devi pentire! Alleluia! Tu devi conoscere la vera giustizia di Dio! Alleluia! Come puoi dire di governare la città? O governare la nazione? Se sei un adultero! Benedetto! Sei un bestemmiatore! Sei un uomo che vive nei vizi! Come puoi governare così la nazione? Benedetto! Chi ha orecchi d'audire oda anche qui nel palazzo del comune! Come volete governare se vivete nell'adulterio! Come volete governare se vivete nei vizi! Gloria! Nella pornografia! Alleluia! Chi ha orecchi d'audire oda! Uno che si approfitta degli altri, dei deboli! Come puoi governare la città se sei un adultero! Ti devi rivedere prima! Ti devi convertire prima! Chi ha orecchi d'audire oda! Amen! Anche dentro il palazzo! Amen! Alleluia! Alleluia! Non potete governare se siete pieni di peccato! È un controsenso, cari! Prima bisogna avere la luce nel cuore! Alleluia! Bisogna avere Gesù nel cuore! Non mormorare più contro la verità! Pentiti! Non mormorare più! Il giudizio ti cadrà addosso! Tu hai bisogno di Gesù! Amen! Tu hai bisogno della salvezza! O sana! Tu hai bisogno di pentirti dei peccati! Gloria al tuo nome! Di credere nel Messia! O sana! Siamo di passaggio in questa terra, cari! La nostra vita! O sana! O sana! Gloria Cordero! Che gioia mio cuore quando predichiamo il Vangelo! Che gioia mio cuore, gloria Signore, quando predichiamo il Vangelo! Questa parola è anche per voi, cari! Peccatori di Cavour, peccatori del Piemonte, uomini! Anche voi avete bisogno di Gesù! Anche se fate finta di non ascoltare, questo messaggio sta arrivando nelle vostre coscienze! Amen! Amen! Alleluia! O sana! O sana! Alleluia! Credete nel Padre che ha mandato suo figlio Gesù per salvare i peccatori! Credete nel Messia! Gloria al Signore! Gloria al Cordero! Credete nel Signore Gesù! Santo Agnello di Dio! O sana! Alleluia! Gloria! Credete nel Padre! Guidaci Padre! Salva le anime! Spezza le catene! Non nascondiate i vostri peccati! No, robotoi! Non nascondere il tuo peccato! Dice la Bibbia! Chi nasconde il suo peccato non prospererà! Amen! Alleluia! Ma chi lo confessa e lo abbandona otterrà misericordia! Confessa il tuo peccato! Confessa i tuoi peccati! Non nascondere i tuoi peccati! Perché Dio conosce il cuore! L'Eterno conosce il cuore! Cari del Piemonte! Non nascondere il peccato! Confessalo! Confessalo a Dio! Non a un uomo! Non a un prete! Il prete non ti può perdonare! Il parroco non ti può perdonare! L'Iman non ti può perdonare nella boschea! È solo Gesù che può perdonare i tuoi peccati! Così dice la Bibbia! C'è un solo Dio! Alleluia! Alleluia! Un solo Mediatore! Osana! Tra Dio e gli uomini! Che Cristo Gesù! Osana! Alleluia! Gloria! Gloriere il peccato! Amén! Alleluia! Gloria! Cordelo! Perché Dio lo ha stabilito! Per essere il Signore! Alleluia! Il Salvatore! Amén! Amén! Alleluia! Di Dio! Italiani che ascoltate cattolici o musulmani arabi! Anche voi avete bisogno di Gesù! Se rinegate Gesù andrete all'inferno! Gesù non è solo un profeta! Amén! Gesù è il figlio di Dio! Amén! Amén! Alleluia! Il Messia! Osana! Il Salvatore! Il Salvatore! Gloria a Gesù! Se voi non riconoscete questo andrete alla perdizione! Perché state rifiutando il Messia arabi! State rifiutando Gesù il Salvatore! Anche voi cattolici pentitevi! Solo Gesù è la salvezza! Non è Maria! Maria non è la salvatrice! Alleluia! I Santi non sono intercessori o salvatori! I Santi non possono perdonare i nostri peccati! Ma è solo Gesù, cara Signora! Amén! Gesù diventa! Gesù! Che non è una statua! Alleluia! È reale! E lui ritornerà! Amén! Alleluia! Maranatha! Maranatha! Vieni, Signore Gesù! A giudicare i vivi e i morti! Noi siamo qui a predicarvi questa verità! Con amore! La verità ci rende liberi, cari di Cavour! Amén! Voi avete bisogno di conoscere la verità! Alleluia! Come noi, per la grazia di Dio l'abbiamo conosciuta! Amén! E Gesù ci ha illuminato! Benedetto Gesù Cristo! Alleluia! Gesù ci ha liberato dall'errore! Amén! Alleluia! Lo Spirito Santo ha trasformato il nostro cuore! Amén! Alleluia! E lo ha trasformato in un cuore nuovo! Alleluia! Alleluia! Tu hai bisogno di un cuore nuovo! Amén! Non di una religione della domenica! Alleluia! Gloria al Cordero! Non vi salva! Gloria all'agnello! Andare a Messa non vi salva! Andare alla moschea non vi salva! Alleluia! Gloria a Dio! Voi avete bisogno di cambiare il cuore! Tramite il pentimento! Amén! Alleluia! Voi credete che bisogna pentirsi dei peccati? Gloria a Dio! Voi credete che bisogna pentirsi dei peccati? Alleluia! Credete che bisogna pentirsi? Maranatan! Cattolici o musulmani? Ossana! Qualche voi protestanti all'acqua di rose? Credete che bisogna pentirsi? Valdesi! Se c'è qualche valdese qui! Credete che bisogna pentirsi del peccato e abbandonare il peccato? E nascere in Cristo Gesù! Amén! Di nuovo! Alleluia! In una nuova vita! Amén! Oh gloria a Dio! Alleluia! Anche se sembra che nessuno ascolta! Io predicherò! Noi predicheremo! Amén! Perché questa verità che predichiamo, anche se sembra che nessuno ascolta! Mi fa bene anche a me stesso! Amén! Amén! Io la predico anche per me stesso! Amén! Ossana! Alleluia! Ascoltate la parola dell'Eterno! Ossana! Ossa secche! Gloria al Signore! Benedetto il Figlio di Dio! Ascoltate la parola dell'Eterno! Tocca i cuori Padre! Spezza le catene! E voi vivrete! Gloria a Dio! Se ascolterete la voce dello Spirito Santo che parla! Alleluia! Alleluia! Occhi e orecchi da udire oda! Gesù ti vuole dare la vita! Amén! Cara donna! Gesù ti vuole liberare! Dal buio! Dal peccato! Dalle paure! Dalla depressione! Gesù ti vuole liberare! Dalla perdizione! Affidati a Lui! Che è il Salvatore! Amén! Alleluia! O il Messia venuto dal cielo! Non c'è un altro Messia! Il Messia è Gesù di Natale! Amén! Amén! Il Messia è il Salvatore! Il Figlio di Dio! Gesù! Anche voi Arabi! Cosiddetti musulmani avete bisogno di Gesù! Se voi rinnegate Gesù andrete all'inferno! Altro che sette vergini in paradiso! Altro che settanta vergini in paradiso! Come puoi credere a quelle bugie di Satana! Osana! Che ti daranno settanta vergini in paradiso! Osana! Osana! Tu stai andando all'inferno! Corre! Devei! Ci saranno settanta demoni all'inferno! Non settanta vergini in paradiso! È una bugia! Gloria a Cristo! Dio non porta l'uomo al peccato! Settanta vergini in paradiso! Ma cosa credi? Non credere alle menzoglie di Satana! Non è vero che ci saranno settanta vergini in paradiso! Dio condanna l'adulterio! Se un uomo pensi di avere settanta vergini in paradiso! Quello è adulterio! Non è da Dio! Dio vuole che abbiamo una sola moglie! Amen! Alleluia! Ascoltate i musulmani! Una sola moglie! Non due! Non tre! Non quattro! Tu sei un adultero! Alleluia! Avere due mogli! Tre mogli! Quattro mogli! Come dice l'Islam! È adulterio! È peccato! Vi porta all'inferno! Anche voi donne musulmane! Non accettate che tuo marito ha tre mogli! Non l'accettare! Vieni pentiti davanti a Dio! Donna musulmana! Non accettare che tuo marito ha quattro mogli! Come puoi accettare un tale abominio! È peccato! È dal diavolo! Un uomo che ha quattro mogli è posseduto da Satana! La Bibbia dice che bisogna avere una moglie! Una moglie! Una moglie! Dice il vero Dio! Una moglie! E che dobbiamo essere fedeli alla nostra moglie! Amen! Non crediate le bugie, cari! Alle bugie di uomini indemoniati! Non crediate le bugie dell'Islam! E nemmeno le bugie del Vaticano! Perché anche il Vaticano è corrotto! Dicono tante menzogne! La verità è qui! È il Vangelo di Gesù Cristo! È il Vangelo, alleluia! È il Vangelo di Cristo Gesù! E noi siamo qui a predicare il vero Vangelo! Voi avete bisogno del vero Vangelo! E lui ha... Perché la religione dei papi vi ha ingannato! Al Vaticano c'è la peggiore mafia! Io lo dico apertamente! Al Vaticano c'è la peggiore mafia! Non crediate i papi! Sono ipocriti, impostori, falsi ministri! Credete in Gesù Cristo! Gesù! Gesù è la salvezza! Gesù! Chi vuole illuminare? Gesù è il vero amore venuto dal cielo! Sono contento nel vedere che ci sono dei cuori che ascoltano, che sono sensibili! La verità vi farà liberi a lui! La verità è Gesù! Amen! La verità è Gesù! Alleluia! Solo lui è la speranza! Alleluia! Cercate Gesù! Cercate! Troverete! Amen! Alleluia! Anche voi cinesi! Amen! Cari cinesi non crediate a Buddha! Buddha è un inganno! È una menzogna! Amen! Il buddismo è falso! Vi porta all'inferno anche Buddha! Amen! Cari cinesi! Non crediate a Buddha! Non crediate al dragone! Non adorate il dragone! Il dragone è Satana! Che Dio lo sgridi! Solo Gesù Nazareno vi può salvare! Cinesi! Cinesi! Alleluia! Alleluia! Solo Gesù è la salvezza! Noi abbiamo la gioia di predicare il Vangelo! Perché Gesù ci ha fatto del bene! Amen! Alleluia! Gloria a Dio! Gloria a Dio! Solo Gesù! Solo Gesù! Il mio fratello, padre! Amen! A Dio Cristo tutta la mia! Solo Gesù Cristo vi può illuminare, cari! Amen! Del Piemonte! Come ha illuminato noi! Io prima ero un grande peccatore! Era un uomo malvagio! Era un uomo perso! Era un bestemmiatore! Un ubriacone! Ma Gesù mi ha fatto grazia! Gesù ha liberato la mia anima dall'inferno! Alleluia! E mi ha dato la speranza! Anche lei può avere la speranza! Creda in Gesù! Creda nel Messia! Alleluia! Creda nel Nazareno! Amen! Gloria a Cristo! Shalom Adonai! Shalom! Amen! Gloria a Dio!